Lo considerano la punta di diamante dell'estate tranese. Non è un concerto, è un evento unico di cui Trani e tutta la Puglia può e deve esserne orgogliosa. Il 22 settembre alle 20 sul palco allestito per l'occasione nel monastero di Colonna a Trani salirà una stella della musica mondiale, Elton John. L'evento, organizzato da Gino Russo e Nando Sepe, gode del patrocinio gratuito della regione Puglia. Una Puglia evidentemente dalla capacità attrattiva molto forte non solo per i turisti ma anche per artisti di fama internazionale. In Puglia abbiamo una successione incredibile di grandi artisti in tutti i settori, dalla musica al cinema al teatro. Questo è un pezzo di una storia, una storia che continua, una storia che diventa sempre più ricca e più bella. In un mese non è facile organizzare un evento che ce ne vogliono 4-5 di media. Lo spostamento della location quanto c'entra, quanto ha influenzato la polemica con la chiesa? Zero. L'abbiamo spostato per una questione logistica perché abbiamo fatto un sopralluogo alla cattedrale e più di 2000 persone, 2002 non ci andavano. Siccome con 2002 i costi dello spettacolo dovevamo mettere dei prezzi proibitivi abbiamo optato per una situazione sia come capienza che come fatto logistico. Ci sono dei camerini bellissimi che potrà usare Erton John, il suo team, cose che alla cattedrale bisogna mettere le ruote dietro al palco per dare una cosa indecente. Il costo dei 4.000 biglietti di cui 3.000 già venduti varia dagli 85 ai 180 euro. Tra i VIP in tribuna, Riccardo Scamarcio, Sergio Rubini, Fausto Leale e Albano, sono stati messi a disposizione nel pubblico due parcheggi. La zona sarà pedonale e le forze dell'ordine vigileranno sulla sicurezza della serata. Appuntamento dunque al 22 settembre.